piobbico scalatore muore precipitando in un dirupo a staffolo trovato morto 17enne dopo un giorno di ricerche nasce l'agenzia per turismo e internazionalizzazione delle marche il catere imbiancato pronto ad un altro weekend sulla neve una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news e passiamo ora alla cronaca con una notizia che arriva purtroppo dalle montagne del territorio di piobbico il soccorso alpino speleologico ha recuperato attorno alla mezzanotte di ieri il corpo senza vita di uno scalatore cinquantenne precipitato fatalmente durante un'arrampicata alla falesia nascosta della balza della penna a dare l'allarme la compagna dell'uomo che non aveva notizie dalle pomeriggio sono scattate così le ricerche con otto operatori del soccorso alpino e speleologico la vittima è stata trovata da due amici la base della parete che le cinquantenne stava attrezzando e purtroppo un'altra tragica notizia si arriva dalla provincia anconetana oggi pomeriggio un 17enne di staffolo è stato trovato morto dopo un giorno e mezzo di ricerche il corpo era in un casolare di campagna pochi chilometri dalla sua abitazione il ragazzo uscito di casa ieri mattina per andare a scuola jesi non è più rientrato sulle decesso l'ipotesi alle momento è quella delle gesto volontario e ora cambiamo argomento perché questa mattina ad ancona è stata inaugurata latim agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione che oggi ha trovato la sua sede effettiva all'interno della camera di commercio delle marche alla presenza delle presidente francesco acquaroli dell'assessore all'internazionalizzazione andrea maria antonini delle presidente della camera di commercio marche gino sabatini e di marco bruschini direttore di atim acquaroli ha definito latim uno strumento fondamentale per potenziare le politiche del turismo e dell'internazionalizzazione nella regione soddisfatto anche il presidente della camera di commercio sabatini per un'operazione che punta su iniziative mirate partendo dallo sviluppo di dinamiche di dialogo fra il mondo del turismo e quello dell'internazionalizzazione una vocazione turistica delle territorie che passa anche attraverso i libri come quello di beva marsano giornalista delle corriere della sera che ha inserito alcuni gioielli della provincia di pesaro e urbino all'interno delle libro vale un viaggio 101 meraviglia italia da scoprire un libro che in questi giorni è stato presentato a pesaro e mondavio vediamo la provincia di pesaro urbino conserva gioielli che valgono un viaggio a sottolineare quanto il nostro territorio meriti di essere conosciuto e la giornalista del corriere della sera beba marsano che ha inserito luoghi e opere d'arte della nostra provincia nel terzo volume della collana vale un viaggio 101 meraviglia d'italia da scoprire terzo volume pubblicato a novembre sull'onda del successo riscosso dalle prime due pubblicazioni avvenute a partire dal 2016 un libro che la marsano ha presentato ieri sera nella biblioteca oliveriana di pesaro e questa mattina all'hotel ristorante la palomba di mondavio e questo libro raccoglie 101 meraviglie nascoste d'italia queste meraviglie sono singoli capolavori d'arte o di natura ai margini del turismo di massa che da soli per la bellezza per la storia per l'impatto scenografico valgono un viaggio della provincia di pesaro urbino ci sono delle meraviglie dei tesori che a me hanno devo dire la verità paralizzato perché molti di questi non li conoscevo e ho avuto modo di scoprirli grazie una serie di viaggi di viaggi di indagine di viaggi di scoperta ad esempio la cappella tiranni a cagli questo è un capolavoro del padre di raffaello sanzio poi una cosa meravigliosa appena stata restaurata e la pala di fano eccola qui eccola qui del perugino e troviamo raffaello anche qui perché la predella che è veramente un capolavoro assoluto di luce di armonia di equilibrio è attribuita a raffaello che fu il l'allievo del perugino per non parlare poi della pala di pesaro la pala di pesaro è la pala la pala di giovanni bellini che voi trovate nei musei civici nella sala d'onore dei musei civici ed ha una bellezza che posso dire deflagrante e fragorosa per la monumentalità per l'invenzione prospettica e anche per assolutamente l'equilibrio formale fra le meraviglie che valgono un viaggio anche i bronzi dorati di pergola questo è un gruppo equestre l'unico gruppo romano che ancora è straordinariamente conservato con la foglia d'oro e questo è un è fantastico voi lo conoscerete ma molti dei miei lettori non lo conoscono e sono venuti appositamente qui per scoprire ad accogliere e promuovere vale un viaggio la stessa con commercio marche nord con la presentazione del libro che parte integrante del progetto degli itinerari della bellezza con beva marsano negli ultimi anni abbiamo fatto con la sua partecipazione insieme ad altri giornalisti due press tour nella provincia di peso rubino attraverso l'itinerario della bellezza e quindi abbiamo portato giornalisti importanti sono di testate nazionali a visitare alcune bellezze del nostro territorio la pubblicazione di questo libro dà ancora maggiore valore al nostro progetto itinerario della bellezza col quale noi ci sforziamo d'intesa con i comuni che partecipano al progetto di valorizzare il bello che c'è nel nostro territorio bellezza che non è solamente come in questo caso straordinarie opere d'arte ma è anche un ambiente incontaminato produzioni gastronomiche di grande qualità e quindi abbiamo deciso di proporre anche la presentazione di questo libro considerando che i primi due volumi di questo vale un viaggio sono andati letteralmente a ruba negli anni passati e questo dà ancora ripeto maggiore valore e promozione all'itinerario della bellezza e alle bellezze che beba racconta peraltro nel libro c'è anche una striscia dedicata all'itinerario delle rocche di francesco di giorgio martini che è un altro nostro progetto che abbiamo organizzato all'interno dell'itinerario della bellezza e dalle bellezze culturali passiamo alle bellezze delle nostre montagne che si preparano ad un altro grande weekend di afflusso di persone proprio ieri le telecamere di rossini tv si sono accese sul complesso sciistico delle monte catria vediamo come è andata e come sarà il prossimo weekend dopo l'assalto di visitatori alla montagna dello scorso fine settimana febbraio si è aperto con neve splendida depositata e sistemata sulle cime appenniniche pesaresi che si preparano ad un altro weekend sulla coltre bianca fra sci bob ciaspole e l'accoglienza dei rifugi una combinazione che propria del massiccio del catria dove sono in tanti anche nei giorni feriali a sciare sulle piste che scendono dal monte acuto noi abbiamo due seggiovia un'altri posto una quadri posto che servono piste sia rosse che blu poi abbiamo la famosissima pista di rientro che è una pista freeride non viene battuta e per gli amanti della neve fresca come adesso che abbiamo la neve fino al parcheggio è possibile fare una discesa di oltre sei chilometri in tanti vengono a ciaspolare abbiamo contato oltre 300 ciaspolatori soltanto nello scorso weekend la meta più ambito ovviamente la croce del monte catria che vista con la neve è uno spettacolo della natura e se il catria è diventata un'attrezzata nonché apprezzata metascistica lo si deve ad una serie di importanti investimenti sugli impianti di fatto fino a sette anni fa la seggiovia cotalina era uno skillift perché nel 2009 quando la regione e il comune allora hanno deciso di riaprire hanno ripristinato esattamente quello che c'era 20 anni prima perché questa stazione bisogna ricordare che è stata chiusa per 20 anni quindi è stato riaperto con la vecchia cestovia quindi cestelli aperti non so se ve li ricordate quelli che si morivano di freddo e uno skillift appunto che partiva da dove parte la seggiovia cotalina adesso arrivava qui dove siamo noi siamo arrivati che abbiamo sostituito lo skillift con la seggiovia cotalina è una seggiovia triposto abbiamo fatto un nuovo impianto che parte da 1250 e ci permette di arrivare fino a 1500 metri cioè qui dietro alle nostre spalle lo vedete nel nostro sfondo questi due impianti ci hanno permesso appunto di aprire le 13 piste per 12 chilometri siamo molto soddisfatti anche dal fatto che dopo due tre anni dal covid che si erano bloccate tutte le attività agonistiche e non dello sci club siamo ripartiti quest'anno e le cose sono andate molto molto bene c'è molto entusiasmo da tutti quanti e ci stanno chiamando da anche dalle regioni dalle province vicine per iscriversi ai corsi di sci a tutto quanto riguarda le attività che svolge lo sci club neve a parte gli impianti di risalita del catra sono in funzione tutto l'anno per tutte le stagioni così come il rifugio cotalina siamo aperti in primavera estate sempre perché è un posto bellissimo in cui famiglie si possono divertire sia in estate sia in inverno come adesso che c'è una neve stupenda piste bellissime quindi aperto tutto l'anno in modo che accontentiamo più gente possibile quindi è vivibile 365 giorni all'anno e vi ricordiamo che potrete approfondire tutte le attività delle montecatre in uno speciale che rossini tv trasmetterà lunedì in seconda serata alle 21 e 40 ma dalla montagna passiamo ora alle mare quello di marotta il cui litorale verrà maggiormente protetto dalle maxi investimento sulle scogliere presentato oggi dalla regione marche intervento importante anche sostanzioso perché sommano due interventi uno da 360 mila euro che era stato portato avanti con un bando a fine dello scorso anno sempre un bando del mio assessorato che si era giudicato il comune di mondolfo per un parziale diciamo sistema una parziale sistemazione della scogliere la zona centrale di marotta e a questo invece oggi succede un nuovo finanziamento più sostanzioso di un milione e mezzo che noi come regione marche abbiamo avuto a ristoro delle mareggiati avvenute nel 2019 e questo milione e mezzo abbiamo deciso di riversarlo su marotta di mondolfo perché c'è questa esigenza che è stata fatta presente ormai da tempo dall'amministrazione comunale di mondolfo è stata seguita dal dagli uffici della regione marche già da tempo quindi un milione e mezzo più 360 mila e ora arriviamo a 1 milione e 9 quasi di intervento che di fatto andranno su un progetto redatto dal comune di mondolfo che andranno a manutentare quindi a risistemare le scogliere già esistenti quindi non si parla di nuove scogliere le scogliere già esistenti che sono scogliere soffolte che si sono degradate nel tempo come normale che sia e non garantiscono più diciamo la difesa di quel tratto di arenile quel tratto di spiaggia a questo punto con questi lavori noi riportiamo quelle scogliere diciamo alla loro fase iniziale quindi le ristoriamo le sistemiamo e credo che facciamo un buon servizio per tutto il litorale di marotta e per tutta l'attività balneare turistica che svolge su questo su questo e quel territorio sono lavori molto importanti di difesa della costa in particolar modo si interverrà sul la zona centrale del lungomare di marotta per circa due chilometri un finanziamento significativo di un milione 960 mila euro e quindi un intervento senza precedenti per per il nostro territorio ci tengo a ringraziare la regione marchi in particolare l'assessore aguzzi per l'attenzione costante ai problemi annosi dei comuni costieri marchigiani è un fenomeno quello erosivo di cui abbiamo risentito tanto come territorio e quindi serviva un intervento a tutela delle attività degli operatori turistici e balneari del di marotta e mondolfo e questa mattina la guardia costiera di pesaro ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di una tartaruga in difficoltà nei pressi della piccola spiaggia vicina alle circolo canottieri il personale della capitaneria di porto ha recuperato l'esemplare che appariva in difficoltà vicino alle scogliere e l'esame delle veterinario ha accertato che si trattava di una tartaruga terrestre in ambiente a lei non favorevole la tartaruga è stata ora affilata alle cure del centro di recupero animali selvatici regionale marche multiservizi informa che nella giornata di martedì 8 febbraio a pesaro verrà effettuato un intervento per la riparazione di un tratto di rete idrica con installazione di una nuova valvola l'intervento comporterà la sospensione dell'erogazione di acqua potabile dalle ore 8 alle ore 12 e 30 in zona torraccia l'acqua mancherà nello specifico in via timavo via gagarine nelle tratto compreso fabbriati mavo e l'incrocio con strada montefeltro in strada montefeltro fra via pertini e via delle betulle in via degli abeti fra via gagarine a via delle betulle in strada dei platani in via pertini in via icaro e in strada cassiani e nelle municipi di pesaro si è insediato ieri il primo forum giovani un nuovo organismo apartitico approvato a settembre dalle consiglio comunale volto a creare un filo diretto tra istituzione e ragazzi che vogliono partecipare attivamente alla vita della città ne fanno parte pesaresi di età compresa tra i 16 e 29 anni che creeranno un nuovo soggetto collettivo coinvolto nella programmazione delle politiche giovanili in città e restando proprio in tema di giovani anche biblioteca e musei oliveriani cercano tre volontarie fra i 18 e i 28 anni per progetti legati al servizio civile universale 2023 giovani che saranno coinvolti nei progetti culturali dell'ente e come per le altre proposte di servizio civile che vi abbiamo illustrato nelle scorse edizioni del telegiornale è necessario inoltrare una domanda entro il 10 di febbraio l'impegno sarà di un anno a 25 ore settimanali con un rimborso di 444 euro mensili e si è svolto ieri all'istituto santa marta lo student context alberghiero santa marta e tnc tartufi da qualagna un concorso che aveva l'obiettivo di preparare piatti unici ed originali a base di tartufo riducendo il più possibile gli sprechi in cucina protagonisti dieci alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo di cucina a vincere è stato il piatto realizzato da nicole tonelli i pericoli della rete non lasciamo soli i nostri figli si chiama così il ciclo di incontri su una tematica molto delicata che dal 9 febbraio coinvolgerà comune polizia e unicef vediamo i pericoli della rete non lasciamo i nostri figli soli un titolo da mille sfumature quello che accompagnerà da giovedì 9 febbraio una serie di appuntamenti rivolti ai genitori dei cosiddetti nativi digitali per disporre degli strumenti più adeguati da mettere in campo quello che andrà in scena nella biblioteca braile di baia flaminia alle 20 e 45 sarà l'occasione per i volontari esperti di si ulpe unicef di dialogare su una problematica quotidiana con la quale gli adolescenti di oggi si trovano a loro insaputa a dover convivere estorsioni video pornografici cyberbullismo violenza di genere sessuale sentimentale in rete al giorno d'oggi circola di tutto e di più e proprio per questo il lavoro di si ulpe unicef da sette anni a sta parte è rivolto alle scuole con una serie di incontri volti a sensibilizzare chi in età sempre più tenera entra in contatto con la sfera digitale è una vera e propria emergenza nazionale così viene ormai definita da tutti gli esperti del settore ho circa sette anni che giro tutte le scuole di ogni ordine grado che incontri i genitori proprio per sensibilizzare sia gli adolescenti sia i loro genitori dei pericoli del web e dei pericoli che possono derivare da una errata gestione dei social e della rete ci sono delle conseguenze ci possono essere delle gravi conseguenze sia di ordine penale che di ordine civile ma soprattutto e questo è un trend che purtroppo dimostra dei numeri in forte aumento un ragazzo su dieci vittima di cyberbullismo tenta il suicidio è un'emergenza veramente nazionale perché purtroppo i genitori non si rendono conto e spesso lasciano i loro figli libri di navigare in rete gestire i social senza nessun controllo e non si rendono conto quello che loro fanno che che fanno i loro figli in che territori vanno in territori veramente pericolosi la maggior parte degli adolescenti già a 9 10 anni hanno il cellulare hanno il cellulare e spesso sono lì senza nessun filtro nessun senza sistema di parental control e sono quindi liberi di navigare guardate un solo un esempio le ultime statistiche dicono l'ottanta per cento degli adolescenti l'ottanta per cento è entrato in contatto con dei siti pornografici molte volte con dei contenuti molto violenti ci sono gruppi di whatsapp dove sono state poi veramente portate a termine importanti azioni di polizia di investigazione della polizia postale gruppi di whatsapp dove c'erano per dire 432 adolescenti che si scambiavano video di bambini bambini di 3 4 anni violentate di donne violentate di animali serviziati questo per immaginate che già queste sono immagini che per un adulto sono raccapriccianti immaginate per un bambino ragazzino di 12 13 anni che in un'età in cui la sua mente non ancora strutturata viene a contatto con immagini di questo tipo gli effetti sono devastanti sempre più frequente il ricorso allo psicologo una terapia in rapida scesa seguito soprattutto degli effetti collaterali della pandemia il lockdown ha accelerato inevitabilmente il processo di isolamento sociale favorendo l'immersione delle adolescenti nelle profondità oscure dei social network è un'occasione questa di confronto appunto con gli esperti ci servirà insomma per rendere consapevoli i genitori di quelli che possono essere i rischi non è un'azione di terrorismo ma un'azione di formazione di prevenzione quindi ci auguriamo che già già dalla prima puntata di questa serie di incontri che stiamo mettendo in campo ci sia partecipazione e che possa servire anche a salvare solo un ragazzo ed era questo l'ultimo servizio di questa nostra nuova edizione di rossini news prima però di lasciarvi le previsioni delle mete andiamo a vedere quale sarà la nostra prima serata questa sera alle ore 21 20 l'isola che non c'è commedia teatrale a cura dell'associazione culturale stella e domattina come di consueto l'appuntamento è alle 7 20 in diretta ricordiamo anche diretta sulla nostra pagina facebook quindi non solo sul canale 80 ma anche in streaming e sulla nostra app rassegna stampa della provincia di pesaro urbino a condurre la rassegna ci sarà il nostro marco cadendo ed è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati con noi questa sera con questa nostra nuova edizione vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi un bel